Gossip, Enrico Brignano e Flora Canto foto con la figlia Martina Spasso Gossip, Brignano con Flora Canto a Milano con la figlia Martina. Gossip, un pupazzo di neve parlante per la figlia Martina. Enrico Brignano e Flora Canto a Spasso per Milano con la loro piccola Martina. Il settimanale nuovo ha subito immortalato luscita pubblica della famigliola e così noi scopriamo un lato veramente inedito di Enrico Brignano e Flora Canto con la figlia. Che cosa susserrerà all'orecchio della sua bimba per farla stare tranquilla? Fingerà di essere Olaf, il simpatico pupazzo parlante di Frozen, il regno di ghiaccio?. Brignano e Flora Canto, genitori innamorati e premurosi. Gossip, le foto ci rimandano limmagine tenerissima di un padre evidentemente innamorato della figlia. Lo vediamo mentre la coccola durante un momento di piacevole svago in compagnia di Flora Canto. Enrico Brignano e Flora si sono calati alla perfezione nel ruolo di genitori premurosi, ma senza nulla togliere al rapporto di coppia che sembra veramente andare a gonfie veli. Gossip Brignano, in principio c'era Giacinto. Gossip, comico arguto, ma mai esageratamente caustico, spassosissima interprete di Giacinto, eterno fidanzato della mitica cettina di un medico in famiglia, Enrico Brignano, sembra aver veramente trovato la sua isola di felicità. Da otto mesi Enrico Brignano è diventato padre di una bellissima bambina, Martina. Flora Canto, ha postato su Instagram una foto in cui si scorge limmagine che si commenta da sé della bambina che, mentre sta per addormentarsi in braccio alla madre, sfiora delicatamente con la manina il mento della madre. Dove vedere Enrico Brignano? Vita privata. Gossip, infatti, Brignano e Flora Canto stanno insieme dal 2014. Enrico Brignano, dopo un matrimonio finito con Bianca Pazzaglia ha finalmente trovato il suo mondo in compagnia di due bellissime donne che lo faranno sicuramente sentire un uomo molto fortunato. Quando tornerà in tv? Ci sarà una nuova edizione di Il Meglio d'Italia? Ci sarà anche lui nell'ultima serie di Un medico in famiglia? In futuro si vedrà, per ora gustiamoci queste foto che trasmettono amore e tenerezza. Grazie per la visione!